A Spoltore la giunta comunale guidata dalla sindaca Chiara Trulli ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area del mammut, edificio a ridosso del centro storico in abbandono da decenni e che potete vedere anche dalle immagini della telecamera di Diego Martelli. Il mammut sarà abbattuto e nell'area su cui insiste l'edificio saranno costruiti una scuola dell'infanzia, un parcheggio e un parco. Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, nello specifico quali sono i dettagli di questo progetto? Questo è un progetto da 4 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda la scuola, più altri 500 mila euro per quanto riguarda il collegamento ciclopedonale che appunto porterà a un collegamento tra tutte le scuole del centro urbano. Abbattuto il mammut dunque esattamente cosa sorgerà su quell'area? Sorgerà una nuova scuola dell'infanzia con sei sezioni di servizi di alto livello, tutto tecnologicamente molto improntato all'efficienza energetica, risparmio energetico. Una scuola che sarà appunto un polo dell'infanzia capace di ospitare, essendo sei sezioni, anche un numero considerevole di alunni. E soprattutto anche con una riqualificazione dell'arredo esterno che contemplerà anche la presenza di aree appunto verdi e servizi per i nostri cittadini. Ci saranno anche i parcheggi, insomma sarà un nucleo urbano veramente rigenerato e totalmente a disposizione in questo caso di servizi scolastici, ma anche della comunità che potrà utilizzare comunque anche quelle aree verdi esterne per occasioni diciamo di svago e fruizione del tempo libero. Qual era l'originaria destinazione d'uso del mammut? Quell'edificio inizialmente era stato concepito come un mercato coperto, poi anche teatro comunale, però poi abbandonato da tempo perché comunque necessitava di ulteriori lavori che poi non sono arrivati. Il costo di questo progetto di riqualificazione, ha parlato di 5 milioni di euro, questi fondi da dove vengono? Questi sono i fondi di rigenerazione del PNRR. Questo viene già da un lavoro che era stato avviato con la precedente giunta di Lorito? Sì, noi già in passato avevamo tentato diverse strade per arrivare ad attingere quei fondi che sono indispensabili per compiere una opera di questa levatura o milioni di euro, quindi che chiaramente con un bilancio fatto di risorse proprie non sarebbe stato sufficiente per risolvere un problema trentennale di quella dimensione. Quindi avevamo cercato finanziamenti anche su varie linee progettuali e finalmente sono arrivati i fondi del PNRR. Noi siamo riusciti ad attingere un finanziamento che premierà la trasformazione urbana vera e propria di quell'angolo dispoltore che finalmente rivedrà la sua piena dimensione urbana e la fruibilità di quegli spazi da parte dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.